Insomma il Mago ancora una volta, Mago Salvorano peraltro, ancora una volta a premiare i bambini delle scuole di Servola. Sempre, sempre, mi piani tantissimo Servola, piccolo, perché è uno dei più bei rioni che esiste a Trieste, che tiene ancora sul carneval, piccolo mio. E qua a Servola mi piani perché è di tutte le scuole di Servola che sfila grazie a Servola insieme e ai amici di Servola che ha tanta voglia ancora di fare, poveri, anche se purtroppo i tempi di qui chiede, e noi andiamo avanti qua sempre a fare belle sfilate con tutti i fiori, la scuola Biagio Marie, il comprensivo Italo Svevo, tutte le scuole di Minula Slata, per i miei amici della Slovenia, Capodistia, Isola, Piran, bellissimo Vara, belli i fiori, bella. Senti, prima mi dicevi che hai un sacco di targhe, quando farai una mostra? Una mostra di targhe, perché ho tante, ho partecipato a tutte le sfilate possibili, perché mi, De Bon, Istrian, Trieste, mi piace il carneval, piccolo mio. E naturalmente, senti che bella musica, i vikings, questi sono veramente bravi, piccolo. Senti, un'ultima domanda, cosa fai per l'ultimo di carnevale? Piccolo, mi vestirò, non so, di apre maia per questo anno, ma per cambiare, no? Grazie. Grazie.